Ci arrivano ovviamente quotidianamente da Jakarta. Vediamo gli highlights. Come in occasione delle gare di Champions League viene scosso e fatto muovere il pallone simbolo della partita. Qua c'è un pallone nero-azzurro che sta ruotando al centro del terreno di gioco con delle musiche ad effetto. Inizia in questo momento la partita. Attenzione alla rapidità di Indra. Cerca il dai e vai. Attenzione al tiro. Venenosa questa conclusione del numero 22. Wilson, Edward Wilson, eccolo qua inquadrato. Adesso si può ripartire ma attenzione che ripartono veloci con questa azione individuale sulla destra. Finta e controfinta. Il cross al centro. Il colpo di testa tentato dal numero 29, Karlovic. Attenzione al contropiede. Attenzione al contropiede. Attenzione a Wilson che prova ad andare. E c'è un incrocio dei pali colpito con una botta incredibile da parte di Edward Wilson. Prima occasione da gol. Ha calciato di sinistro forte sul primo palo. Di Gennaro non ci può arrivare ma viene salvato dall'incrocio. Bellissimo lancio per Longo. Attenzione. Prova ad andare all'uno contro uno. Longo salta l'avversario. Guadagna il fondo. E c'è il calcio d'angolo. Il calcio d'angolo. Parte la traiettoria ma arriva un attimo in ritardo. Un attimo in ritardo. Palla che viene giocata. Attenzione Pazzini. E ancora uno due azione confusa con Longo che la gestisce. Può girare. La mette dentro per il pazzo. Fuori gioco. Fuori gioco. Palla che viene giocata da Dutra. Cerca la verticale per Karlovic che prova la girata diretta in porta. Insidiosa. Questa traiettoria di Mario Karlovic. Eccolo qua. Palla lunga. Cercare proprio Wilson con Ivar Amiro che cerca di non farlo girare. C'è il tiro pericoloso. E la parata a terra non particolarmente impegnativa da parte di Gennaro. Palla larga sulla destra con Antic che prova ad andare. Il tiro cross. La chiusura di Córdoba e l'esperienza di Ivar Amiro. Palla confusa con Longo che prova a venire fuori. Numero esce bene. Attenzione Pazzini. Si crea un tre contro due. La palla è buona per Terrani che può entrare in aria. Salta un uomo. Attenzione. Palla fuori. Il sinistro rimpallato. Il tentativo di Poli. Poi c'è fallo di Krizic. Palla viva con Juan Ion. Il cross al centro sul secondo. Pallo sono in due. Fuori gioco ma c'è stato il miracolo del DJ. Che parata di Gennaro. Attenzione. Adesso lancio lungo proprio per Edward Wilson che prova ad entrare nella destra. Con della Fiore che lo contrasta. Arriva Andica. Rimorchio. Cerca di andare a servirlo. Palla sul sinistro. Cerca il tiro. In due tempi il DJ. Attenzione. Questa palla dentro. Per Terrani. Salta portiere. La porta è vuota. E questo lo segnavo anch'io. Non dopo un controllo così. È lungo. È lungo. Il gran gol di Di Longo che è bravissimo a partire in posizione regolare. Gol di Ray pregevole. Rivediamola. Quest'azione in posizione regolare. Parte. C'è l'errore del difensore. Beffa anche il portiere. Poi mette assolutamente con facilità il lancio in profondità. di Ivan Cordoba. Edoardo. Allora. Intanto. Un'azione pericolosa. Subito. Ribaltamento di fronte da parte loro. Quindi da parte loro. No. Niente. Allora. Commento io. Allora. Sono venuti tutti quanti a chiedere da bere. Hanno approfittato di questo gol a testimonianza del grande caldo e della grande umidità. Probabilmente non l'hanno fatto prima ma sono arrivati tutti quanti in panchina. Arrivato il capitano a salutare come sempre fa dopo un gol. Attenzione. Buona questa percussione in rapidità. Vede la porta ma c'è anche Agisaka che si oppone. Fermacioni sta parlottando con Jonathan. Finisce il primo tempo. E allora mettiamo a posto il nostro cronometro per dare il via al secondo tempo. Primo piano per Poli. Questo è il signor Rossi. Arbitro della gara. Molto severo. Due ammoniti addirittura per falli. Poi non così clamorosi. Non così importanti. E inizia subito con Maikon e Jonathan la laterale di destra. I pazzini. Maikon cerca il cambio di gioco. Troppo alto. Il pallone. Attenzione però. Che lungo ci crede. Recupera questa sfera. Si deve liberare. Guadagna al fondo. Attenzione. Pericolosa la sua percussione. Il cross al centro in due tempi. Agisaka recupera questo pallone. Jonathan controlla. Apertura larga per Maikon. Delta la profondità. Jonathan. Eccolo servito. Pallone buono. Jonathan attenzione. L'uno contro uno con Agisaka. A Parma. Attenzione Coutinho. Entra in area. Cerca il numero. Delizia per palati fini. E ci vuole il grande intervento di Agisaka. Palla che viene lanciata su Maikon. Maikon tocca corto per Jonathan. Attenzione. Il pallone filtrante per Pazzini. L'intervento in spaccata. Di Pagbe. Palla ancora per Poli. Attenzione il grinta. Cerca di mettere Pazzini. E regolare solo il pazzo. Il suo tiro. La parata. Ancora Pazzini. Il tiro. E il gol. Del 2 a 0. Segna. Pazzo Pazzini. Sta per entrare anche Tremolada. E grande ovazione sugli spalti. Fumogeni. Rossi. Veramente incredibile l'entusiasmo qui. Commentavamo con il cuccio cambiasso. Il gol del pazzo. Che ha guardato dopo la prima ribattuta. Se era fuori gioco. Sulla seconda. No. Ha potuto segnare. Una liberazione. Per lui. Ma anche per noi. Attenzione a Andik. Che arriva a rimorchio. Wilson però tiene palla. Rallentando l'azione. Mette un pallone al centro. Attenzione. Cercano il dai e vai. Il tentativo. A lato. Del numero 10. Andik. Sempre lui. Palla giocata su Jonathan. Attenzione. Cerca di. Con uno schiaffo esterno. Noi se viene mai con. C'è una gran palla. Che tenta. Tremolada. Con un colpo morbido. C'è un intervento. Di Tremolada. Che prova verticalizzare. Per il pazzo. L'occasione buona per il raddoppio. Ma la palla termina fuori. C'è una buona palla di Jonathan. Per Coutinho. Palla filtrate per Tremolada. E c'è il terzo gol. Rivediamola. Il pallone da Jonathan a Coutinho. Il filtrante per Tremolada. Vedete che resiste. All'intervento del difensore. Protegge con il corpo il pallone. Poi lo piazza nell'angolino. Niente da fare per il portiere. Siamo sul 3-0. Pallone ancora per Coutinho. Che cerca di essere molto nel vivo. Bella questa apertura per Maicon. Prova a partire accentrandoci. Con un buon dribbling. Attenzione. Il taglio di Tremolada. Prova. Il colpo a schiaffo. Eeeh. L'incrocio. Questa volta non gli riesce il gol. Come nel derby. La palla si stampa sull'incrocio. Alla destra di Agisaka. Ma questa è una grande giocata. Roby vista dal campo a altezza naturale. Chiedeva il pallone Maicon. Chiedeva il pallone alzato. È bastato un secondo a Coutinho. Ti lascio seguire l'azione. Sì perché c'è ancora Coutinho che cerca l'azione individuale. Cade a terra in aria. Tutto normale. Dice il direttore di gara. Non protesta nemmeno Coutinho. Parla di Cambiasso. Cambiasso per Coutinho. Tremolada in buona posizione. Coutinho carica al destro. Eeeh. Che botta da fermo. Ti vorrei segnalare così. Modestamente una sciarpata. Come attenzione a loro. Fuori di poco. Una sciarpata nella curva che definiremo la curva nord indonesiana. Con migliaia e migliaia di sciarpe. Al grido Milano siamo noi. È spettacolare. La regia subito ci va puntualmente accogliendo il tuo suggerimento. Tocco per Jonathan Buona. Attenzione che parte come una furia. Maicon subito servito. Pronto a crossare al centro. Calibrato. Cambiasso. Eeeh. Il Cuccio mi ci arriva sempre lì. Con il colpo classico di testa. Ma in questo momento con l'Inter che è i marcatori della partita. Una bella prestazione. E allora adesso andiamo subito.